comunque mi piace di più quella no oggi, però mi piace anche questa quando posso cambiare a nome mi metto anche Zes con i caratteri speciali ok ta 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 aspetta nooo nooo la c'è stata evagata ah l'hai avviata la live si aspetta ah l'hai avviata la live sono ancora in live? si ok schermo intero si ok ok adesso riapriamo ma c'è davide ma che pezzo di merda non mi ha neanche invitato entro da lui e ti invito ok 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 piramide no ok no ok 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 ciao ragazzi e non mi sembra ci sia david in questa lobby però tu che dici? già ah no si c'è eccolo david david però non parte ah ma è suo fratello aspettiamo vabbè io sono sempre nella mia crea quindi vabbè entro da te no mi sono messo da lì ah no ok hai cambiato lobby pure tu quindi stiamo qui ah perfetto vado di qua colpa c'è c'è ah che storia c'è il mio 2 mate che sta bestemmiendo perchè non può prendersi questa renegade sad storia mi l'avrei regalata se avevo mille vbac no perchè ho ancora 800 di vbac però già ho fatto tutto il soldo di mio padre ci ho poi 13 euro magari mi ammazza no vabbè 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 ma si desce prima un 13 euro della serie ormai abbiamo iniziato finiamo no 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 10 euro dentro sono fottuto meno male non ci sono mi sa che li ha tolti che culo male 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 mangia male 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 ufficiale ufficiale devil la comunità mai aiutano i tre ma il prezzo ma la mia no 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 la renegade no è la renegade nuova che c'è baggato ah 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 perchè il primo quando ti stavo invitando l'icona della renegade ma perchè hai abbandonato il team zesso ma perchè hai abbandonato il zesso perchè c'è un amico che prima aveva un team con gente veramente forte e tutto dentro c'era e poi ho arrivato il team il team e il team è fortissimo abbiamo fatto il team fortissimo all'incirca vuoi fare uno v uno con Andre? ti va Andre? per chi è forte? guarda si è forte se non i bambini decenni più forti d'italia 9? 9 anni eh? 9 si si comunque Andre è forte non so se lo batti ah lui è il baraggia 9 a me mi ha proprio arato c'è boh eh mi entrate nella mia creative anzi no vabbè faccio un po' nooo non questa cosa non questa cosa non questa cosa però se puoi entrare arrivo subito ma puoi entrare non ho un po' non ho un po' no bello il mit bello il mit io ho il mit scuola però io ho il mit è anche il mit però secondo me ci stava meglio questo questo scherzo ah bellissimo che l'era è bellissimo che l'era è bellissimo si è vero da due anni c'è la cammina non si vede tanto chi dice? mette la... mette la panna qui eh boh metti... cosa... cosa metti? la... la... la buva eh no te la buco facciamo box poi dopo mette la buco sono in live con l'handcam e ogni volta che gioco guardo l'handcam e... metto le mani proprio sulla gamba destra non so non so mamma che lagga intanto io sono nella buca e canto scuola aspetta che se no lagga troppo aspettiamo che c'è lui incredibile mio padre non si è incazzato non si sapeva anche che c'erano dei soldi dentro con le carte oh la la stai raggando posso entrare? oh no no ok ok ora entro entro la sfida ae ok o ae 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 Ah, io ho fatto un caffato. Ascovado, ascovado. Buono c'è un paio di trattamento di edit Però sei una miss out Adesso prima si è scolmato soltanto edit Adesso non riesco più editare 200 Sbagliato Guarda l'altra di vita ti ha lasciato Vabbè vabbè Cazzo mi sono incastrato Cazzo mi sono incastrato Basta a destra Guarda qua Oh Track Ti va di rientrare nel team C'è C'è un bro C'è C'è Ci sono entrati un bot di player OP C'è allora Quanti anni hai? 9 Eh sei bravo 9 11 C'è 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 Con l'academy C'è L'academy Se voi vorrebbero sfidarti Ti va? Ma che pazzi Eh penso di sì perché me l'ha detto Angelo Non so chi Che pazzi questo Comunque anche noi Nel team ufficiale Sono soltanto Siamo tutti Only PC Nel team ufficiale C'è C'è Allora Ti faccio vedere tutti Tutti i membri Che ho del team Ci spavento io Diretura Allora Ma che che ho fatto così Ma che che ho fatto così? A lui con la tastiera 30 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 Quanto vuoi arrivare I 10 facciamo che stanno durando poco sti fight È abbastanza vero Va Ho pure 7 ping bomb Va bene Un'altra 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 Da Da 24 24 Comunque 3 se ti va di rientrare Ora sono tutti only piccini team ufficiale Sono davvero tutti delle bestie Abbiamo 3 sponsor E tra non molto avremo anche le magliette Fai da stiamo salendo tutto Ha sono anche freddo io 190 anche io te l'ho tolto prima che pompa di merda hai avuto più sfida però cioè è vero cioè cioè tu metti 190 da 10 metri io da un metri ti ho fatto 190 dai che l'aria è sfida vabbè io sono anche no 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 andiamo avanti o torniamo al chat volete fare uno più no o il file da fare e metto l'aspetto io e mi sembrava anche io comunque track dopo che tutte queste cose se vuoi rientrare in futuro poi basta che contatti il team e il capo su instagram e chi ha già fatto il provino che eravamo già fatto hai preso silenziate pompa via la mitra silenziata dov'è che è la mitra silenziata che non la uso così vuoi anche pigliare il rapino o no 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 ma l'ho lasciata che ho fatto tre passaggi di fila proprio po' e a un po' di meno 3 3 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 6 8 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 ma cazzo ma cazzo tanti arriamo anche più 7 ora c'è il quadro? cazzo ma cazzo non è tutto non è tutto 3 a 1 a quante arrivate? posso invitare un mio amico manuel che mi sa che vuole sfruttarlo vabbè 3 a 1 arriviamo a 7 ping pong vai 3 a 1 bello 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 ho ragione bello bello ea bè ea bè guarda che anche tu stai zitto zitto ehi che sveglia che gioco devo mettere i miei uri allora gioca a serio, vediamo guarda rega va per destra, lo hai fatto sentire forse cercare serio non è schiacciare i tasti più forte eee puoi scherp leip nei sora eee attra 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 Grazie a tutti 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 Guarda Grazie a tutti Mentre sto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io Grazie a tutti 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 Forse Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti 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 pesce così che fa vedere i fan che è il più forte da pad non ho capito sto invitando l'altro anno stavo dicendo ad andrea no 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 ti prego dice che non entro questo però non è molto bello che danno qui boh vabbè però è figo oh se entra uno non l'espeller che è un tizio che mi aveva insultato e mi ha sfidato 1v1 ma è un bot bene ma perchè c'è i competitor su team perchè ci sono due gruppi di intestino perché quello competitive è proprio quello ufficiale l'altro ci sono anche quelli dell'accademia e vabbè quelli della staff sono in tutte e due i posabi che facciamo due 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 va bene io non ho mai visto giocare questo andrea vabbè allora sei con lui quindi così se ti ammazziamo lo spettacolo questo non c'entro si sono svegliato adesso eh ok bandolai ho visto che la wonder è l'iconica andrea voi quelli altri hai chi io no no eh zess quali altri hai aspettate raga ehm chi chiunque vada nella chat quella di discord generale la chat vocale clicca dire e passa a dire così parliamo tra di noi poi lo dobbiamo modificare se volete sim aprite chi sta in disco e ci devo entrare e ci devo entrare